Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio Oggi è l'ultimo giorno E quindi Non so se farmeremo Abbiamo completato tutte le sfide Ci mancano a fare queste Dovremmo anche mettere un nuovo mini Però oggi finisce anche questa cosa qui Mi sembra del torneo In più o meno 10 ore Quindi forse stasera riusciremo a fare l'ultima Schippiamo Siamo arrivati ultimi Perfetto C'era uno che andava come una freccia Potremmo vedere chi è Vedere che macchina aveva però Non è che ci interessi chissà quanto Allora Ieri ho finito Tutte le sfide Come potete vedere Il setup della mini È stato Messo così Ho semplicemente rimosso questo E ho cambiato le gomme Per darmi Qualche centesimo di spinta in più È tutto qua Anzi Vediamo cosa potremmo farmare oggi Potremmo farmare gomme Oppure vediamo qua Se ci sono gasce da aprire Abbiamo due gasce Abbiamo due gasce A livello 4 E 9 gasce A tic normali Non abbiamo molte cose da fare Allora Io direi di iniziare a Sgravare le mappe E per sgravare E per sgravare intendo Farle Quindi Oppure c'è qualcosa che potrei farmare brutalmente Una cosa che mi piacerebbe farmare è questo Ah sì Iniziamo a farmarla Beh Fino a 30 Non ci serve a niente Però Potremmo anche fare questo Ah mi piacerebbe questo A me piacciono un sacco questi cerchi Quasi quasi droppo questi Mi chiamano 26 stelle Mi mancano 5 stelle Quasi quasi ragazzi Andiamo a droppare stelle Le gomme mi piacciono veramente tanto Allora Ok Assolutamente ok 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Novantotto. Detto ciò. potrei farmare altre carene perchè potrei portare questa carene glielo 5 subito che quasi quasi possiamo andare a finire di farmare carene e portare anche questa quali non lo sai mancano 200 spaccati quasi beh intanto alleggeriamola ancora un po' anche se non ho più niente per poterla potenziare ce la posso alleggerire ma non posso mettergli gli upgrade adesso perde peso ne ho 6 come potete vedere beh quasi quasi usiamo un bonus da 99 questa fa la terza non era questa ma era questa questa ci da sia questa che ci piacciono e queste qua che ci piacciono come opzione B diciamo potrei skipare quattro volte ma non è vale la pena ed è così che io passo tutte le giornate ragazzi metto il gioco in background mentre farmo e intanto registro altre cose quindi su questo circuito faremo 7 secondi 12 e ci mancano solamente di 9 livelli no 10 livelli per avere il 50 per quanto riguarda le campi la fine e questo è quello che sta accadendo è l'anno è l'anno Chi è questo qua che mi scrive? Ovviamente è sub stream. Ah, mi sono messo a farmare ma mi ha dato solo 3 motori viola e poi niente. RIP Ciao Oh, 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 oh Sì non ho fatto un po' di salire, non è un po' di scrimo non è un po' di scrimo Oh no... E vai, dieci. Vai con altri dieci. Ah, che noia. Penso che potrete skippare tutto quanto il video, praticamente. Sì che sto cercando anche nell'arveloce. Sentite il mio mouse, il mio mouse a essere smasciato. Oh no... Solo 100 punti ci da. Uff. Sono curioso di vedere una cosa. Vediamo un attimo di nuovo qua. Qua ti da 100 punti xp. Non è che magari la sfida di quella sopra ti da di giù. Abbiamo ancora 31 energie. Cioè può essere questa qua ci diamonto di più xp. Sì. 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 Č. Che cosa stiamo a fare? Sì. Mettiamo 126. Andiamo a dropparne due, così veloci. Questa sfida scade in 12 ore, quindi stasera in teoria riesco a farne un'altra. Per ora direi di fermarci qui e dopo continuerò a fare questi. Perlomeno mi sblocco questi bei cerchi. Sento perché mi piacciono i cerchi. Poi mi servirebbe anche questo qua, visto che l'ho sblocato. No, quando l'ho parlando? Ehi, non sarebbe una brutta idea. Fino a quanto arrivano? A 30, madonna. Ragazzi, io vi abbandono qui. E al prossimo episodio. Bye, bye.